Su Bike Channel rivivi il meglio della Rock d'Azur 2017, l'evento di mountain bike più amato di Francia. 4 giorni di bici, gare, divertimento e spettacolo tra i percorsi della costa azzurra per oltre 5000 partecipanti. Rock d'Azur 2017, solo su Bike Channel. Rock d'Azur 2017, solo su Bike Channel.